Abbiamo sentito proprio dalla viva voce di Filippo Laporta e di Cristina Lifarà, dei punti di vista, anche punti di vista nei gusti, dai tortellini in cima al couscous, alla ragazza somala che stereotipicamente si attribuisce cose che di solito, come funziona negli stereotipi, altri attribuiscono ad altri. Punti di vista, ma anche comportamenti, che possono essere comportamenti a mezzo, tra l'uno e l'altro dei comportamenti possibili. È stata citata anche Gia Bascego, non di lungo più di tanto perché sarà qui domenica, però una frase, che è un brano proprio di un suo racconto, dice testualmente più o meno A Roma la gente corre sempre, a Mogadiscio la gente non corre mai. Io sono una via di mezzo tra Roma e Mogadiscio, cammino a passo sostenuto. Eccolo, il punto di vista che diventa in realtà anche l'occasione per superare il punto di vista stesso, quindi per ragionare in altro senso. Io sono affascinato dai due romanzi di Nicolalini, adesso gli dirò poi vi via perché. Vorrei partire da un brano, lui non ama leggere cose sue, me lo ha già detto, quindi ne approfitto io invece per citare passi che può essere utile riportare, perché siamo in un bellissimo luogo, abbiamo alle spalle un bosco. Il bosco è una parola tema ricorrente nella sua narrativa. Ho alzato lo sguardo, il bosco era immerso nel buio e respirava forte, gli alberi sembravano persone vive, i rami mossi dal vento facevano una danza strana, un movimento continuo e ipnotico. Era senz'altro un posto bellissimo e incantevole, peccato che a noi toccava vederlo attraverso la guerra, il fattore che riesce a rendere orrende anche le cose più belle e straordinarie di questo mondo. Inizio qui proprio dai boschi, un bosco che simbolicamente in un certo senso esigerebbe un distacco, ma io direi che la tua narrativa, per me o questa è la mia impressione di lettore, supera qualunque descrizione possibile in termini di realismo o naturalismo. Non c'è né realismo né naturalismo, c'è quasi una religione dei luoghi, delle persone, degli eventi, che rende forse soprattutto il tuo primo romanzo, ma anche il secondo, particolare anche come punto di vista. Forse perché non seguo una precisa tecnica narrativa. Io semplicemente racconto le cose a me care, in un modo semplice cerco sempre di condividere le cose belle con gli amici. Sono stato da sempre consumatore della letteratura, perché sono nato in una società estremamente povera, dove non si facevano vacanze, non si andava a visitare altri paesi, anzi sono nato nei tempi in quali dall'Unione Sovietica non si poteva uscire, per il fatto che la frontiera era chiusa, e quando hanno aperto le frontiere eravamo talmente poveri e devastati da questo arrivo di un consumismo sfrenato che nessuno di noi avrebbe mai potuto uscire dal paese per fare una gita e conoscere un'altra parte del mondo. Per cui tutta la mia infanzia e crescita il conoscere il mondo, il fatto di entrare dentro la vita delle altre persone, per me era il fatto letterario, quindi io leggevo. Oltre questo io sono cresciuto con i vecchi, per questo sembro e parlo come vecchi, ma non sono vecchio, sono 31 anni, e i vecchi delle parti mie insegnavano e comunicavano solo attraverso le parole, quindi non esisteva un altro modo di comunicare, di passare le cose. Per cui anche la mia scrittura è una narrativa soprattutto orale, è un racconto che io racconto in modo arcaico o vecchio. per questo spesso mi dicono ma è impossibile che lei ha scritto questo libro, perché questo libro deve essere scritto da una persona molto adulta, quasi vecchia, anziana, non è una ragazza giovane. mi è capitato in Sicilia incontrare un anziano, lui era un bandito siciliano che ha fatto, non so, 40 anni di carcere per varie cose, e quando mi ha visto mi ha detto ma questo qua è un ragazzino, e non ci credevo che ero io autore del mio libro. Per cui io credo che il mio libro e cose che io scrivo suscita queste suggestioni, ma in realtà perché è semplice, perché non ha dietro nessuna strategia, nessuna tecnica, è semplicemente un racconto orale. Io quando prima volta ho scritto prime cose un mio amico mi ha detto ma tu per spiegare il tuo stile spiegami come fai e io gli ho detto guarda io l'unico paragone che ti posso dire che mi viene adesso in mente io mia scrittura e il modo parlare il mio modo di parlare di comunicare di narrare l'unico paragone che mi viene in mente è il fiume. Cioè l'acqua va riempie i spazi dove c'è più basso rientra si allarga si stringe ma non riesce mai a governarla dove va lei intanto scorre porta qualcosa e poi si escono fuori varie forme di vita e quindi attorno si creano varie realtà ma il principio dell'acqua è ingovernabile quindi la mia scrittura è lo stesso. Io a me mi è capitato adesso vi dico una cosa brutta a me mi è capitato perdere un pezzo di romanzo di mio primo libro di educazione siberiana per una cosa banale scrivevo con un computerino che si è rotto era irrecuperabile e c'era un piccolo pezzo che io non ho salvato sul disco saranno stati venti pagine e il mio editor ha detto beh pazienza adesso ti metti con la testa comunque lo riprendi no è impossibile non ricordo niente non so come farlo ricordavo due o tre cose ricordavo che parlavo di mio nonno di mia nonna ma cosa ho scritto non ricordavo proprio per cui per me la scrittura è questo è una pura narrazione libera totale infatti chi legga anche in questo caso soprattutto il primo nota l'importanza il peso che hanno le parole che sono parole trasmesse tradotte ritrasmesse ereditate e raccolte anche qui due passi per fare a Nicoli la prossima domanda perché proprio fedele fino in fondo a questa tradizione di trasmissione anche orale lui permette sia al primo libro che al secondo due detti un detto siberiano e un proverbio russo il primo dice c'è chi gode la vita c'è chi la soffre invece noi la combattiamo e il secondo in caduta libera una figlia prostituta porta alla famiglia meno disonore di un figlio soldato il secondo ricordiamolo racconta dell'esperienza in Cecenia della guerra che come Cecchino durante la seconda campagna cecena Linin ha avuto al servizio dell'esercito russo in un reparto speciale ecco due frasi quasi in contraddizione da una parte c'è l'anima del combattente dall'altra invece c'è l'idea del disonore che porta alla guerra quali guerra combatti oggi Nicoli quali guerra potremmo combattere noi e quali soprattutto guerre che non portino disonore è intellettuale ovviamente la guerra più guerra è una cosa brutta però fa parte del genere umano il fatto come viene eseguita quando si ammazzano come delle bestie schizza sangue che l'abbiamo fatto e non è non porta niente perdono tutti è una guerra brutta questa è una guerra indegna è una guerra degna è una guerra intellettuale è una guerra che viene fatta sul livello di etica di morale quando si rispettano le basi umani e poi si esegue uno scontro intellettuale e se Dio vuole si vince o si perde insomma ma tutti tornano a casa con la loro dignità e con i loro risultati perché cosa bella della guerra intellettuale o di uno scontro degno è che che vince che ottiene il suo risultato porta a casa un risultato buono ma anche chi perde impara quindi è una è una crescita enorme in questa se vogliamo scontro intellettuale però per avere scontro intellettuale bisogna avere una cultura bisogna avere un livello molto alto di educazione insomma io parlo di cose interne soprattutto rispetto a un umano non parlo di cose sociali perché se andiamo nel sociale ci abbiamo solo da piangere queste due dette tra l'altro sono tutti usciti dalla bocca di mio nonno per cui per quanto sembrano contraddittori le ha detto un uomo stesso uomo e primo detto era un detto di quello che rappresentava lo spirito con quale comunità siberiana si opponeva alle regole del governo perché il governo era nemico il governo veniva combattuto fortemente un governo era visto come un elemento dannoso per la vita umana quindi era incredibile tutto è molto pericoloso io ho scoperto in Italia parlare di queste cose perché si suscita infatti quando ho presentato il mio libro in Francia mi sono arrivati i corsi mi hanno detto tu sei il nostro scrittore ma tu è mai impossibile ma tu racconti proprio cose che anche noi abbiamo combattuto bisogna andare molto piano con piedi per terra perché si confondono molte cose quindi questo 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 motto prevede soprattutto la nascita di un pensiero ribelle in una società che si trova non dico in ginocchia ma stesa per terra quando un uomo schiacciato con un scarpone sul petto e gli esce fuori questa cosa qua non si parla di un criminale che vende eroina per arricchirsi o ruba la macchina o crea un traffico perché vuole costruirsi una villa sulla costa del mare si parla di persone che veramente vogliono arrivare alla fine della sera portare a casa un pezzo di pane e poter crescere i loro figli in una situazione degna quando dico degna intendo quando c'è acqua calda a casa quando la luce c'è sempre quando non c'è coprifuoco dopo le otto di sera quando polizia non picche i vostri bambini mentre tornano da non lo so da un giro che fanno in città e questo detto riguarda quella situazione secondo detto è un detto che in qualche modo conferma primo detto perché nato nella comunità che non rispetta servizio militare per il governo per questo loro dicono io piuttosto nella mia famiglia accetto una donna che si prostituisce che è una grande vergogna per persone di vecchie società arcaiche che poi per carità come erano siberiani le teste dure e loro piuttosto accettavano una figlia prostituta veramente dicono io piuttosto una mia famiglia avrò una figlia prostituta che è un figlio che mette uniforme e va fare servizio uccidere altri uomini commettere crimini per un governo che io odio per un governo che schiaccia quindi era una consapevolezza tutte queste due frasi portano una persona a essere consapevole di non essere schiavo grazie grazie